gentili telespettatori buona giornata dalla germania ci prendono in giro i teteschi puntano il dito sui mammoni italiani ma attenzione mammoni con gli stipendi troppo bassi cioè mammoni non in quanto mammoni ma mammoni in quanto poveracci con degli stipendi da terzo mondo che non possono vivere da soli il mammone quello che non si stacca dalla mamma che deve stare a casa fino a 45 anni a 50 anni o per sempre l'italia è stato in passato davvero un paese di mammoni ma lo è in parte anche oggi ma al mammonaggio fatto di in questo modo si aggiunge il mammonaggio per necessità ma dove va uno con 1200 euro a milano a torino a roma a venezia bologna firenze a pisa ma dove vai ma dove vai non ce l'hai ma dove vai con 1200 ma anche dove vai con 1500 e quei 4 milioni di italiani che prendono meno di 1200 ecco perché in italia attenzione abbiamo i lavoratori poveri ma abbiamo anche quelli quasi poveri né il lavoratore povero né quello quasi povero né quello quasi quasi povero possono permettersi di andare a vivere da soli ma dove vai ma dove vai che ti chiedono un affitto che è più alto di quanto guadagni dove vai e allora stai a casa dato che in italia stanno diventando più i single delle coppie cioè parliamoci chiaro in alcune zone d'italia se non sbaglio milano ci sono più persone che lavorano che vivono da sole di quelle che vivono in coppia e vivi da solo come cavolo fai ma dai ma puoi vivere da solo se hai la casa di proprietà ma se non hai la casa di proprietà come fai se non hai la casa di proprietà come fai a a vivere cosa c'è vieni qui vieni vieni c'è cosa c'è vieni qui vieni chi cosa c'è cosa c'è cosa succede cosa succede eh saluta i gentili non sempre gentili no 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 niente slinguazzate eh saluta no la telecamera è di lì saluta eh saluta sciazzi gioia saluta a freddo perché si è buttato il freddo e allora deve stare sulle mie gambe per sentire più caldo eh marron vieni qua vabbè vi ho presentato anche sciazzi la ha sciazzi va bene eh sciazzi ha i suoi 12 anni vero gioia eh lo so mondo difficile vita vissuta tempi moderni e così i teteschi dicono ho 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 la colpa è della situazione economica i lavori non sono retribuiti a dovere e gli alloggi sono cari scusi presidente del consiglio su questo salario minimo che in germania hanno ci facciamo ridere dietro anche dai tedeschi eh presidente del consiglio perché non vuole perché non vuole il il salario minimo perché per non andare contro gli imprenditori che devono fare io credo che sia quello vi ricordate che quando la Meloni è stata eletta ha subito detto dobbiamo lasciare in pace gli imprenditori non dobbiamo vessare dare fastidio a chi vuole produrre perché sono loro che mandano avanti l'italia e sì sono loro che mandano avanti l'italia ragione la presidente del consiglio ma devono pagare le persone il giusto e manca questa seconda parte sono d'accordo lasciamoli fare ma nel lasciarli fare devono però rispettare i lavoratori e pagarli quello che è giusto nel 2023-24 quindi va bene la prima parte del pensiero della Meloni lasciamoli fare ma lasciamoli fare però rispettando i lavoratori eh eh giusto perché ci facciamo prendere per per le orecchie anche dai tedeschi che loro hanno il salario minimo e hanno un pil che oltre il doppio di quello italiano e hanno il salario minimo a 12 o 13 euro l'ora noi abbiamo persone che prendono 3 euro l'ora 3 euro l'ora eh sì anche 3 euro e mezzo tutti quei lavoratori poveri quei milioni di lavoratori che gli danno poche centinaia di euro per lavorare 8 10 12 ore al giorno è ovvio che agli occhi della Germania siamo il terzo mondo dell'Europa è così signori eh è così abbiamo la possibilità di uscire da questo senza paura non falliscono le aziende se mettete il salario minimo non vi preoccupate che non falliscono se mettete il salario minimo la gente ha anche più soldi in tasca da spendere gira l'economia riparte anche il pil ecco quando faremo il salario minimo non sarà mai troppo tardi però più aspettiamo e più le cose peggiorano e ci facciamo prendere per il naso anche dagli altri paesi proprio con un titolo in prima pagina che si può tradurre letteralmente come la mamma nessuno o ma la mamma è unica di mamma ce n'è una sola però i mammoni d'Europa gli italiani i mammoni d'Europa poi naturalmente questo giornale tedesco dice sì mammoni ma gli stipendi sono da terzo mondo e gli affitti sono da primo mondo chiaro no? quindi l'affitto è da paese sviluppato e gli stipendi sono da paese sottosviluppato quindi quelli con lo stipendio sottosviluppato non possono andare in affitto nel paese del primo mondo chiaro? quindi anche il giornale tedesco non ha solo detto i mammoni ha detto mammoni perché non possono fare altrimenti ecco la difficoltà di costruirsi un'esistenza autonoma senza fare affidamento sulle risorse dei genitori oggi o sei figlio di papà nel senso che ti ha comprato il Mercedes ti ha comprato l'appartamentino o appartamentone allora giochi a fare l'indipendente perché papà c'ha la fabbrichetta c'ha l'impresa e loro giocano lì a fare i direttori o sei figlio di papà tra virgolette o sei veramente nei guai oggi per un giovane affacciarsi alla società è impossibile ma dove vai con questi stipendi qua? ma dove vai dai? stipendi da ridere arrivederci a tutti e grazie